Come rettore dell'Università di Bologna ho il piacere di conferire il primo dottorato di ricerca ad honorem del nostro Ateneo. Il dottorato di ricerca è un percorso nel quale formazione e ricerca si fondono alimentandosi l'una con l'altra e sprigionando un enorme potenziale di innovazione. Proclamiamo Katia Bastioli dottore di ricerca ad honorem in ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali e le conferiamo il presente diploma a tutti gli effetti di legge. Abbiamo bisogno di una formazione interdisciplinaria e sistemica che superi il paradigma della competenza e della leadership individuale, abbracciando temi come l'etica, per essere donne e uomini prima ancora che scienziati e imprenditori. Altrimenti, come ci ricorda Bertolt Brecht nella vita di Galileo, se gli uomini di scienza si limitano ad accumulare sapere per sapere, la scienza può rimanere fiaccata per sempre e ogni nuova macchina non sarà fonte che di nuovi triboli per l'uomo. E quando con l'andare del tempo avrete scoperto tutto lo scopribile, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall'umanità. Grazie. Applausi 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 Grazie.